Buongiorno, non so se chino di Roluri oggi, non so dove è il conte, oggi andrà a posto mio perché io mi sento proprio, non lo so dov'è, però un po' vuole. Che stai combinando? Questa è l'acqua nel caffè, però ho scoperto una cosa, che scoperto, non c'è cosa so ragazzi, come quello della busta. Quando vedete l'acqua nel caffè, di questa è la bottiglia, andate così, c'è la pisarmonica per i nostri figli. Questo ragazzo è un momento alto di ASMR, perché, certo, perché ama i video ASMR, guardatevi. Buongiorno, i bambini, la pisarmonica. Vabbè, al top, al top, al top.